La Fiera dei Parchi e del Turismo Green vedrà la sua prima edizione nel 2024, anno del ventennale del Parco dell'Alta Murgia. È la novità lanciata durante la presentazione della guida ai 13 paesi dell'Alta Murgia nell'ambito dell'evento verso un turismo esperienziale e sostenibile. La proposta importante di oggi è quella di voler tematizzare la Fiera di Gravina, una fiera che ricade di un parco nazionale, che è giunta alla 729esima edizione, la fiera dell'agricoltura e del bestiame e quindi trasformarla nella vetrina dei parchi nazionali e del turismo sostenibile e fare sì che questa fiera possa raccontare tutto il patrimonio naturalistico, enogastronomico, archeologico, culturale presente addirittura non solo nei parchi pugliesi ma anche nei parchi italiani. Il tema sostenibilità per noi è centrale come regione, fra l'altro all'interno del piano strategico abbiamo un tavolo ad hoc sui temi legati alla sostenibilità e alla sostenibilità legata al turismo. Stiamo sviluppando molto in questo senso la rete dei cammini, stiamo parlando di economia della bicicletta ma soprattutto abbiamo una grande proposta che viene dai parchi regionali e nazionali come il parco dell'Altamulge che può essere non solo un collettore di un territorio importante ma può fungere anche da cerniere e da modello organizzatore. Dobbiamo capire noi sindaci, dobbiamo fare squadra, noi dobbiamo parlare di territorio e soprattutto per quanto riguarda il turismo perché non avremo mai voce singolarmente, ogni comune non va da nessuna parte facciamo squadra, facciamo territorio e dobbiamo rappresentare il nostro territorio con tutto ciò che ne consegue e il punto di partenza può essere la nostra fiera. Presentato anche il progetto Mandorland con i suoi cinque percorsi di degustazione. Stiamo studiando anche qualche percorso in più, chiaramente il target al cui stiamo pensando è un target soprattutto di turisti consapevoli e stranieri, ci sono guide che parlano più lingue questo perché vogliamo dei piccoli gruppi, pensiamo a gruppi di 20-25 persone massimo che partano insieme e tornino insieme e che vivono un'esperienza anche magari non conoscendosi.